D'ontologia e rigorosa professionalità sono gli elementi che costituiscono il buon profilo di un magistrato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene a Scandicci alla Scuola Superiore della Magistratura. Alla cerimonia di inaugurazione dei corsi di formazione per il 2019 si sofferma su uno in particolare, quello dedicato all'etica professionale del magistrato, con una nuova questione, delle più delicate, che riguarda l'uso dei social media da parte dei magistrati. Si tratta di strumenti che se non amministrati con prudenza e discrezione possono vulnerare il riservo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità, il prestigio della funzione giudiziaria. Serietà e imparziale applicazione della legge senza mai farsi suggestionare dalla pressione del clamore mediatico, alimentato intorno ai processi, poiché le decisioni di un magistrato, ribadisce il Presidente della Repubblica, non devono rispondere alla opinione corrente, né alle correnti di opinione, ma soltanto alla legge.